Un saluto a tutti gli amici di Radio Bianconera e Bianconera News, il tema della settimana riguarda ovviamente la Juventus che non riesce più a vincere perché siamo alla quarta partita consecutiva dove la Juventus non mette in cascina i tre punti. La partita di Verona è una partita strana, una partita che la Juventus ha rimontato due volte dove poteva anche dopo il 2 a 2 di di Rien Rabiot poteva anche vincere, fatto sta però che la Juventus non riesce a tenere il passo delle prime e quindi oltre a essere a distanza abbastanza considerevole dall'Inter deve guardarsi anche dal Milan impegnata oggi a Monza nell'eventuale sorpasso della squadra bianconera. È inutile spiegare come ci siano vari livelli di responsabilità però attenzione perché non è chiaramente colpa di una sola persona e quindi Massimiliano Allegri, il tecnico, sapete qual è la mia posizione? Io non l'avrei né ripreso né confermato però pensare che sia tutta responsabilità di Allegri questo momento della Juventus a mio parere è una cosa sbagliata perché quando le cose vanno male bisogna fare delle riflessioni profonde anche sulla squadra, anche su quei calciatori che magari aspettano qualche altro mese per provare a rinnovare. Penso per esempio a Adrienne Rabiot il cui contratto scade il 30 giugno 2024 e che sta un po' temporeggiando per capire se resterà l'attuale allenatore, se la Juventus cambierà guida tecnica ma questo discorso che faccio per Rabiot vale anche per altri giocatori quindi la riflessione non è e non deve essere almeno questo è il mio punto di vista solamente sul tecnico ma va fatta anche sui giocatori. Chi è da Juventus? La Juventus che noi ci aspettiamo quindi quella che lotta per lo scudetto, quella che lotta per le posizioni di vertice nel calcio europeo e dei giocatori che a mio parere non possono più indossare la maglia bianconera. Capiremo tutto nelle prossime settimane. Io intanto vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona domenica. Ciao!